Questo video serve a fare delle puntualizzazioni su una vicenda ricca di stranezze e imprecisioni che hanno finito per creare molta confusione e parere discordanti in tutti noi. In tv, per esempio, parlano un po' tutti e spesso c'è gente anche molto impreparata. L'altra sera ho sentito sulla 7 uno psichiatra fare una ricostruzione basata sul fatto che Viviana quella mattina avesse comprato le scarpe al figlio. In realtà, come ben sappiamo, lei non ha mai comprato le scarpe al figlio quel 3 agosto e questo dimostra già quanto preparata fosse quella persona. Ad oggi tutte le piste vogliono portare all'omicidio o suicidio. Questa è una soluzione che, oltre che comoda, probabilmente spiegherebbe molte cose. Tuttavia, credo che se i media hanno battezzato questo caso come uno dei casi più importanti degli ultimi 5 anni, un motivo ci sarà. Non credo l'avrebbero fatto se non ritenessero che dietro può esserci anche altro. Questo altro potrebbe anche essere semplicemente degli errori di chi ha operato nella vicenda, dei soccorritori forse, delle telecamere che guardavano caso quando servono sono sempre non funzionanti, dei giornalisti che spesso propinavano dettagli contraddittori o loro stessi li contraddicevano il giorno dopo, ma anche della stessa famiglia del marito di Daniele, che probabilmente travolta, allorché impreparata da un vortice mediatico, ha sbagliato alcune delle prime risposte. Mentre i media, ad esempio, lo davano a scena aperta all'impegno dei soccorritori, sinceramente anche io che li avevo visti pensavo che stessero facendo grandi cose, il socero sarebbe il padre di Daniele Mondello, alla sua prima apparizione in loco attacca accusando di negligenza, di essere anche abbastanza scansa fatiche, questi soccorritori lo fa anche comodamente seduto in auto, il che non depone molto a favore suo. Un altro personaggio che divide è la cognata, che fa alcune considerazioni gratuite sulla salute di Viviana, lo fa tra l'altro quando ancora lei non è stata ritrovata, è morta, quindi per cui potrebbe anche essere semplicemente dispersa, lo fa con toni poco cordiali, in tv secondo molta gente non pare nemmeno troppo affranta, però questo è un discorso molto soggettivo, perché ognuno ha una tragedia che agisce a modo suo, c'è chi la prende in modo molto emotivo e c'è chi riesce a prendere con freddezza, per cui è veramente difficile fare una disamina su un punto del genere. Comunque la gente finisce così per scambiare delle persone forse semplicemente un po' antipatiche per i perfetti carnefici di turno. Essere antipatici e essere colpevoli di un omicidio sono due cose molto ma molto diverse e questo in particolare va ricordato per il marito. Ecco, la gente la fa semplice quando c'è una persona che muore e il quadro pare un po' ambiguo, il colpevole, se non è il maggiordomo, è il marito. Eppure questa è un'equazione priva di ogni fondamento, va ancora ricordato che se questa persona non è indagata e non è indagata, è quella che ha perso una moglie o un bambino bellissimo. Bisogna quindi tenere conto che in questa storia è lui quello che ha le migliori ragioni per soffrire più di tutti gli altri messi insieme. Poi c'è una mia considerazione personale in questo caso, che loro in fondo erano sposati due volte, erano sposati in chiesa e in musica. Quando si è sposati in musica, tutto puoi ma non volere del male al tuo partner, anche perché praticamente la musica ti crea un feeling e dei ricordi ancora superiori, per cui è veramente poi difficile farne a meno. Comunque adesso analizziamo tutti i punti che hanno portato gli italiani ad avere 15 posizioni diverse e a cervellarsi in questi 20 giorni d'estate. Allora, il primo dettaglio che vado ad analizzare è un dettaglio che non è altro che una mia considerazione, quindi va preso come un discorso molto soggettivo. Ecco, io per esperienza mia so che un musicista, quando sta per produrre un lavoro, in quei giorni febbrili, praticamente ha il cervello concentrato solo su quello, cioè aggiungo questo pezzo, metto quello strumento lì, faccio quella variazione. E io credo che un musicista, proprio in fase di definizione del singolo, praticamente possa subire le corna dalla moglie nel salone o la moglie che gli frega 3.000 euro al banco, ma che lui non se ne accorgerà da quanto è preso dal suo mondo. E a proposito di questo, Daniele Mondello due giorni prima pubblica il suo ultimo singolo. Di conseguenza trova molto difficile che lui possa premeditare qualcosa contro la moglie in quei giorni. Un punto già molto importante è invece il discorso e lei prima di uscire da casa fa la salsa per il pranzo. Quindi se lei volesse andare realmente alla piramide della luce avrà già visto che da casa sua dista esattamente un'ora e mezzo di auto. Allora, poniamo che lei ha pianificato, è andata a ritorno, un'ora e mezzo, un'ora e mezzo fa tre ore e un'ora di permanenza lì, sono quattro ore. Uscendo alle 9, effettivamente tornerebbe alle 13 e potrebbe ancora preparare il pranzo al marito. Ma si rende conto chiaramente poi a Sant'Agata che i suoi piani sono sbagliati perché qui giunge già alle 10.30 in netto ritardo. Ora, il punto qual è? Il punto è un altro. Lei perché fa la salsa? Quindi, se l'ipotesi che noi prendiamo in considerazione è l'omicidio o l'incidente lei fa la salsa perché chiaramente ha intenzione di tornare a casa a preparare il pranzo. Invece, se lei ha già premeditato il suicidio, il discorso cambia parecchio. Noi sappiamo che il marito dopo la colazione va giù nello studio a lavorare alle sue produzioni. Allora, lei, se non è vista da nessuno e ha intenzione di suicidarsi, perché perde tempo a fare la salsa? Sapendo già che dopo 10 minuti prenderà lo svincolo per Sant'Agata, di conseguenza non è che avviene due ore dopo l'intenzione poi di cambiare i suoi programmi, ma avviene praticamente subito. Allora, se lei fa la salsa e lì in casa non c'è nessuno, il discorso non ha senso. Non è minimamente compatibile con l'idea del suicidio. Invece è compatibile con l'idea del suicidio se il marito, invece di essere nello studio, è presente con lei. Perché in questo caso il marito è lì, vede che fa la salsa, si tranquillizza sul fatto che per Viviana questa sia una normale giornata di tranquillità e che non abbia nulla per la testa. E quindi sta più tranquillo nel vederla uscire anche senza cellulare, per quanto chiaramente sarebbe stato meglio farla uscire col cellulare. Per cui il discorso della salsa indica suicidio solo se il marito è presente e non è in studio. Invece indica in tutti gli altri casi che lei aveva assolutamente intenzione di tornare a casa, perché non ci si prepara un alibi se la persona a cui è destinato non è presente quel momento non lo può vedere. E lei, essendo senza cellulare, una volta che usciva di casa, sapeva benissimo di essere totalmente rintracciabile. Allora, il primo punto importante della vicenda è quindi la menzogna al marito, ovvero lei dichiara di andare al centro commerciale di Milazzo. Il centro commerciale di Milazzo si trova praticamente all'altezza dello svincolo dell'autostrada, a 500 metri, quindi molto distante dal paese di Milazzo. Basta giungere dove si prende l'autostrada e c'è il centro commerciale. Lei invece, a 500 metri dal centro commerciale, non ci si ferma, ma decide di prendere l'autostrada. Questa quindi è la menzogna di base che inizia a complicare la vicenda, la menzogna al marito. A questo punto lei arriva assantata di Militello. Fino assantata di Militello, sembra, nonostante il caldo e tutto, non avere alcun problema di guida, tanto che non è notata da nessuno. Quindi, praticamente guida per circa 40-45 minuti e sembra non avere alcun problema, proprio di nessun tipo, nessuna macchina dichiarerà di aver visto una macchina procedere lentamente, di aver visto una macchina sbandata. Quindi sembra proprio non avere alcun problema. I problemi sembrano nascere quando arriva assantata di Militello. Infatti, il primo dettaglio che notiamo è che esce a Sant'Agata senza pagare il casello. Questa era stranezza, quindi, perché per esperienza personale posso dire che a volte quando uno chiama l'operatore perché non vuole pagare il casello rischia di restare bloccato anche due ore. C'è stata gente che ha chiamato la polizia, i carabinieri. A volte il casellante non risponde. È successo veramente di tutto, anche a me, più di una volta. Per cui non lo fa sicuramente per fretta, perché una delle ipotesi poteva essere che nel tragitto aveva avuto un malore lei o il figlio e poiché a Sant'Agata c'è l'ospedale più grande della zona, lei fosse venuta a Sant'Agata per l'ospedale. L'ospedale si trova, tra l'altro, proprio dove c'è il rifornimento. Quindi, al casello non paga anche se lei i soldi li ha, perché sul sedile, penso, si trovino delle banconote da 50 euro. Credo avesse 100-150 euro, quindi comunque i soldi li aveva e il resto poteva essere erogato. Il discorso è che quindi lei non ha il banco, per cui a Sant'Agata soldi non ne prende. Di conseguenza i tempi del giro a Sant'Agata diventano un po' eccessivi per quelli che erano stati i miei calcoli. Ma la cosa più particolare è che lei fa benzina a rifornimento che si trova vicinissimo allo svincolo, quindi dai miei video si era visto circa un minuto e 50, una persona che sta andando da qualche parte a questo punto riprende la strada dove è venuta, torna sull'autostrada un altro minuto e 50 e se ne va. Lei invece no. A Sant'Agata fa un giro che non ha senso, cioè procede sulla via Medici, prende un'intera strada, perché poi c'è il senso unico, che fa un giro ad arco, si ricongiunge in alto, dove poi riprende la via Generale Liotta, che la porta a scendere, riprende la via Medici da tutt'altro lato del paese, quindi praticamente in centro, attraversa strade trafficate, strade in pendenza, strade molto strette, si mette in via Medici, passa dove c'è uno dei più grandi negozi della zona, poi passa dalla curva del castello dove c'è il comune, quindi dove può essere vista da tutti, passa davanti alla piazza, zona abbastanza trafficata in quell'orario, perdendo almeno 15-20 minuti che poteva non perdere. E questo giro veramente non si riesce a giustificare per una persona che avesse una meta o che ha fretta. Tra l'altro possiamo dire che la guida in questo paese non è nemmeno così semplice per una persona che abbia un problema e quindi non ci si spiega come mai. Qui che è difficile riesce a guidare bene senza destare l'attenzione di nessuno, per cui chiaramente non mette sotto nessuno, non rischia di fare incidenti. Poi invece in autostrada, che è più facile a rettilineo, comincia ad avere una serie di problemi. Quindi, un'altra stranezza è che il rifornimento è sempre presidiato, sia quando aperto che quando chiuso. Da persone che sono tra l'altro molto attente nel venirti a aiutare, soprattutto quando arriva una donna con un bambino e c'è un volontario in determinati casi o comunque c'è l'operatore presente. Quindi molto strano pure che non desti sospetto e non venga vista, riconosciuta da nessuno qui. Quindi è uscita a Sant'Agata alle ore 10.30, riprende l'autostrada alle 10.52. A questo punto percorre circa 10-11 km fino alla famosa galleria di Pizzoturda e la stranezza qua, l'ennesima stranezza, è che a una velocità di 60-70 km orari questo tragitto viene percorso in 9-10 minuti. Lei ci mette 16 minuti. Quindi o cammina esattamente a 44 km orari oppure è evidente che si ferma di nuovo. Cosa molto strana, perché essendo ripartita da un paese dove poteva fermarsi e fare ciò che voleva, che senso ha ripartire in autostrada e subito, subito fermarsi di nuovo? Oltretutto direi che se procedesse veramente così lentamente le macchine che sopraggiungono addietro noterebbero un veicolo procedere a una velocità così ridotta e non sarebbe certamente passata inosservata. E adesso arriviamo al primo vero enigma della vicenda. Praticamente l'incidente. Quindi lei procede in galleria e nella galleria va a colpire lateralmente un furgone. Il furgone viene colpito sul lato dello sportello di sinistra, va a sbattere con la ruota anteriore e destra contro la banchina di destra e le rompe. Mentre lei fa un testa coda e si schianta sulla banchina di sinistra probabilmente scoppiando la ruota e si dice faccia anche un testa coda. La macchina si ferma in galleria anche se in realtà qui già partono le prime testimonianze discordanti. Infatti c'è chi dice che la macchina si è fermata in prossimità della piazzetta che si vede in questa foto, quindi dove c'è quel casello dell'ANAS. Altri dicono invece la macchina era ferma in galleria. Infatti nelle immagini di chi l'ha visto si vedrà che la macchina è ferma in galleria. Quindi già qui non si capisce bene la situazione. Qui praticamente ecco la primavera cosa strana. Come mai gli occupanti del furgone non vanno dalla donna a chiedere come sta e soprattutto a pretendere risarcimento assicurativo? Ecco, essendo il furgone di una ditta se la macchina scappasse dopo il Corsa gli operai cosa racconteranno al proprietario del furgone? Io credo che la ditta glielo farebbe pagare a loro quindi sarebbe normale che uno dei due quantomeno, visto che l'altro si dice essere occupato a dirigere il traffico andasse a fermare la signora subito chiedendo e pretendendo una polizia assicurativa. Quindi come vedete c'è un qualcosa di strano nel modo di operare di questi addetti alla gestione dell'autostrada. Poi passano i fidanzatini. I fidanzatini vedono probabilmente la donna nella galleria che sta camminando e siccome la piazzetta dell'Anas è troppo vicina non fanno in tempo a fermarsi cosa assolutamente comprensibile percorrono un chilometro potrebbero telefonare continuando il loro viaggio ma decidono di fermarsi anche questa cosa tutto sommato ci sta e praticamente da questa sosta che fanno faranno una telefonata. Ecco, anche questi personaggi hanno un qualcosa di strano che dopo andiamo a vedere perché nel frattempo sopraggiunge la vera stranezza e ambiguità della situazione ovvero i famosi testimoni settentrionali. Questi testimoni quindi vedono anche loro la donna nella galleria e si fermano nella piazzetta dell'Anas dove c'è tantissimo spazio possono stare quanto vogliono. Quindi loro aspettano probabilmente che lei completi il tragitto dalla galleria alla piazzetta poniamo un minuto la vedono passare dicono di vederla da vicinissimo lei passa e praticamente va dietro il gardellare e inizia a fare una strada parallela all'autostrada di 200 metri i testimoni settentrionali sembra che la seguono in questa strada di 200 metri quindi possiamo ipotizzare che già sono fermi da 3 minuti. A questo punto dicono di seguirla con lo sguardo mentre lei oltrepassa la rete e va nella campagna hanno anche detto di essere stati seminati e qua è la cosa veramente assurda perché come fanno a essere seminati da una donna con un bambino un braccio veramente a che velocità dovrebbero camminare per essere seminati da una donna in queste condizioni comunque così è tornano indietro quindi poniamo che occupano altri 2 minuti del loro tempo per questa operazione e già siamo a circa 6 minuti prendono la macchina e ripartono ma cosa fanno dopo un chilometro missiosamente si rifermano nella piazzetta sono passati 7-8 minuti comportamento stranissimo quindi dopo essere stati fermi avere assistito alla situazione avere constatato che la donna a modo loro sta bene l'hanno detto loro che la macchina non ha gravi danni si rifermano alla piazzetta successiva cosa stranissima sembra quasi che si fermino perché vogliono di prepotenza raccontare la loro testimonianza a queste persone ferme cioè fidanzatini per poi sparire ecco ma l'ambiguità che riguarda i fidanzatini è un'altra loro si sono fermati in questa piazzetta abbiamo detto da 8 minuti ma cosa hanno fatto in questi 8 minuti infatti poi sapremo che nel momento in cui questi chiamano il 112 una voce del nord dice c'era anche un bambino allora cosa dobbiamo pensare che stanno chiamando il 112 solo ora che sono arrivati i testimoni del nord quindi i fidanzatini per 8 minuti laggiù cosa facevano era comprensibile che si fossero fermati e avessero chiamato subito il 112 invece i fatti dicono che si sente la voce della turista del nord per cui loro aspettano a chiamare che arrivino i turisti del nord anche questo punto è strano come potremmo spiegare il fatto che i turisti del nord si sono fermati al casello Anas poi sono ripartiti sono rifermati lì ma le spiegazioni possibili potrebbero essere due ad esempio che i turisti del nord fermi li vedono qualcosa che li terrorizza li fa spaventare e decidano di scappare quindi di allontanarsi per poi rifermarsi appena possibile quindi la fermata sarà possibile all'area di sosta dove sono presenti i fidanzatini un'altra teoria è che Viviana prendendo l'autostrada ha un dieme incidente proprio con i turisti del nord loro si fermano quindi entrambe le macchine a constatare i danni ciò spiegherebbe la perdita dei sei minuti nel tragitto Sant'Agata Torre del Lauro magari succede che la discussione degenera e lei non voglia pagare l'assicurazione così magari fingendo di prendere qualcosa dalla macchina scappa questa macchina dei turisti del nord si rimette in marcia per cercare di raggiungerla e la raggiunge proprio sul luogo dell'incidente ecco questo spiegherebbe che magari Viviana nella fretta di seminare la macchina dei turisti all'incidente col furgone vede i turisti del nord scendere lì e per cercare di seminare e chiudere la discussione pensa di uscire dall'autostrada credendo che loro lì mai la seguiranno in tal caso potremmo anche ipotizzare che i turisti del nord furbescamente si fermano all'area di sosta successiva così Viviana vedendo che la macchina è più presente riparte e loro vedendola transitare poi da quel punto la fermeranno nuovamente un'altra ipotesi che possiamo fare è che la macchina dei turisti del nord ripartendo dal casello Anas percorre i 200 metri che Viviana ha percorso prima di scavalcare la rete e che arrivato in quel punto possa avere visto qualcosa che stava iniziando a cadere fuori dall'autostrada quindi nella strada sterrata e questo giustificherebbe un'eventuale fermata perché loro avendo visto subentrare un ulteriore elemento avrebbero un motivo valido per fermarsi comunque le stranezze ovviamente non finiscono qua un'altra delle stranezze è che il figlio praticamente tranne questa macchina dei presunti turisti del nord non lo vede nessuno cioè quelli del furgone non vedono assolutamente scendere un bambino dall'auto che sarà ferma circa 50 metri più avanti tra l'altro uno dei due opera del furgone dice di essere sul lato anteriore del furgone quindi comunque di avere visuale aperta e non vede il bambino quindi non nota che cammina in modo strano come una che ha qualcosa che sta portando in braccio e non vede per esempio aprirsi lo sportello posteriore perché il bambino potrebbe essere stato fatto scendere anche da dietro cosa strana è che anche i fidanzatini che transitano quindi a pochissimi metri non vedono il bambino la cosa si potrebbe anche spiegare se intercettano all'altezza dell'uscita della galleria perché in tal caso la variazione tra buio e sole potrebbe effettivamente porre problemi alla visuale un'altra cosa dei turisti del nord che sorprende è che questi hanno la prontezza di riflesso di riuscire a fermarsi dal casello Anas che è proprio vicinissimo alla galleria per cui generalmente se uno transita a un minimo di velocità non riesce a fermarsi in tempo un'altra caratteristica dei turisti del nord è che dopo tutto ciò scompaiono nel nulla salvo riapparire solo quando sapranno che la procura ha in mano una accurata descrizione loro fisica e anche i dettagli dell'auto infine l'ultima cosa che sappiamo sempre su i turisti del nord è che nella deposizione avrebbero detto di aver visto Viviana salire sulla collina quindi andare sul lato della montagna però il bambino viene ritrovato dal lato invece opposto cioè scendendo l'ultima incongruenza che riguarda questa fase dell'incidente la possiamo attribuire all'auto la particolarità è che all'interno dell'auto viene rinvenuto un foglio contenente un certificato che attesta le discutibili condizioni della donna secondo alcuni esperti visti anche in tv come ad esempio Canè questo certificato sarebbe scritto in modo improponibile per essere prodotto da un professionista cioè la descrizione della patologia manca ci sarebbero quindi solo scritte le conseguenze della patologia e insomma non sarebbe assolutamente una dicitura professionale quella riscontrabile in esso quindi un foglio che normalmente non si tiene in auto viene trovato in auto è discutibile anche il modo con cui è stato prodotto primo elemento da sottolineare dell'escursione nel bosco praticamente è il caldo per fare un esempio due giorni prima ero a mare in quella zona lì proprio dove c'è lo scoglio che si vede nelle riprese video e non facendomi il bagno perché l'acqua non era così pulita stavo mezz'ora sulla spiaggia e dopo mezz'ora appunto cominciavo a avere un mal di testa incredibile dovuto al sole cocente che batte in quel punto in particolare perché la colorazione del territorio si dice amplifichi il calore che viene percepito un'altra persona restava esposta mentre io mi mettevo in macchina questa persona per due giorni di seguito per essere stata un'ora al sole ha avuto mal di testa andiamo a vedere invece le stranezze che riguardano il periodo che passa nel bosco allora la prima stranezza sta nelle scarpe che vengono ritrovate pulite eppure il periodo era stato piovoso quei giorni spesso erano spezzati da delle precipitazioni anche molto intense per cui c'era sicuramente fanghiglia la cosa è spiegabile come giunge al traliccio attraversando il bosco o il sentiero con le scarpe praticamente intatte solo leggermente graffiate ma intatte un'altra delle cose che non ci si spiega è appunto con questo caldo debilitante che solo essere esposto ti toglie un'energia come ha fatto a fare dopo la stanchezza che accumuli con un tragitto venetico Sant'Agata quindi un'ora di guida dopo che scavalchi la rete con un bambino in braccio come fai un chilometro circa e non contenta di ciò quindi dovresti arrivare completamente distrutta riesce anche a scalare un traliccio fatto per non essere scalato tra l'altro la camminata avviene in un terreno impervio fatto di saliscendi quindi non una strada lineare questo crea ancora più stanchezza e allora le perplessità sono perché arrivare a quel traliccio se si ha intenzione di farla finita ci sarebbero altre soluzioni intanto il tratto autostradale è costellato di viadotti molto ma molto alti per cui una persona che ha intenzione di suicidarsi potrebbe farlo molto più semplicemente da lì ma non è tutto perché ci sono anche dei tralicci almeno due in linea d'aria molto più vicini al punto in cui lei inizia la sua camminata nel bosco perché raggiungere proprio quello ormai prossimo alla strada statale quindi il più lontano da lei ma ormai anche il più vicino alla strada e decidere di fare questo gesto proprio in questo punto tra l'altro questo traliccio a circa due metri e mezzo ha una serie di rovi probabilmente contenenti anche spine quindi la difficoltà anche di attraversare questo punto dove la natura praticamente regna in contrastate e non solo ci sono anche da dire altri elementi come per esempio che a quell'ora quindi sono quasi le 12 il ferro del traliccio deve essere semplicemente rovente con le mani è veramente difficile che lei possa quindi scalare un traliccio con una temperatura del genere si è sentito dire che sale sul traliccio per sfuggire eventualmente ai cani ma questa cosa non ha senso perché per sfuggire ai cani bastava salire due metri massimo tre metri non c'era bisogno certo di andare in vetta c'è chi dice che sale sul traliccio per vedere il percorso o cercare di trovare il figlio ma anche questo non ha senso perché nel caso del figlio con la fitta vegetazione non lo potrebbe trovare mai nel caso in cui vorreste vedere il sentiero è ancora peggio perché il sentiero di sale alle 40 metri lei l'ha percorso fino a quel punto dal momento che se viene dalla strada principale ha percorso il sentiero se viene dal bosco l'ha dovuto attraversare perché il traliccio è dall'altro lato rispetto alla provenienza sua inoltre in Sicilia è molto più semplice regolarsi perché da un lato ci stanno le montagne dall'altro lato c'è il mare lei quando è uscita dall'autostrada ha visto davanti a sé ampiamente il mare e quindi sa che il mare non è molto distante e che seguendo la collina a scendere arriverà quindi ha davanti un sentiero la strada a scendere non può sbagliare come se questo non bastasse tracciando una diagonale dalla sua posizione di partenza il ritrovamento del figlio e il ritrovamento suo si può ricondurre il suo percorso proprio al prima citato scoglio di San Biagio lo scoglio di San Biagio è uno scoglio più grande tra quelli presenti a Torre dell'Auro e praticamente possiamo intendere che lei visivamente ha visto questo scoglio e quindi l'ha identificato col posto di Torre dell'Auro e ha proceduto in direzione in questa direzione al fine di raggiungere proprio il suddetto borgo che lei probabilmente conosceva in quanto in questo borgo è presente una storica discoteca che soprattutto negli anni 90 ospitava diciamo DJ di un certo livello e a quanto pare sembra che lei sia stata qui in passato allora perché potrebbe essere salita sul traliccio? la spiegazione possibile sembra in particolare una ad esempio c'è un qualcosa alla base del traliccio che può essere una persona o un animale e lei si rifugia sul traliccio ma come ho detto prima non avrebbe senso in questo caso salire a più di due metri ma probabilmente lei sa che lì sotto c'è la statale quindi sa che salendo più alto possibile potrebbe essere scorta da un'auto che passa sulla statale che magari vedendo una donna arrampicata su un traliccio non potrebbe che fermarsi in sospettite e chiamare magari soccorsi questa spiegazione diciamo che renderebbe la cosa plausibile a differenza di altre può anche essere che nel tentativo di fare ciò visto il caldo disumano di cui abbiamo più volte parlato la sua stanchezza può essere che ha e anche la difficoltà non dimentichiamocelo nello scalare questo tipo di tralicci potrebbe avere un malore uno svenimento e questo la porta a ricadere giù inizialmente si sosteneva che il figlio potesse essere praticamente precipitato giù con lei ma a me sembra veramente impossibile che una persona riesca a fare un'arrampicata già così difficile per chiunque addirittura con un bambino in braccio e quindi con un'ulteriore mano in meno e inoltre poi dobbiamo considerare tanto per cambiare che la posizione del bambino non è compatibile con tale ipotesi in quanto numero uno i resti vengono trovati in condizioni ben diverse ovvero lei in condizioni certo ovviamente sfigurata però quasi integra e del bambino purtroppo come sappiamo è rimasto ben poco altri fattori che vanno contro il discorso del suicidio diciamo di insieme possiamo ricondurli alla posizione del resto del bambino che vengono trovati a quanto pare nell'arco di un 50 80 100 metri ecco è improbabile che degli animali che abbiano effettuato lo spostamento non abbiano perso nessuna parte dei resti salvo poi perderli tutti in un punto approssimativamente vicino per cui direi che la cosa è poco praticabile un altro dettaglio che secondo me escluderebbe il suicidio è che si dice che in quei giorni lei fosse diventata anzi più che in quei giorni nell'ultimo periodo estremamente religiosa e che leggesse la Bibbia e io credo che la religione dica che chi si suicida non va in paradiso per cui in pratica è come se lei ha cercato la scorciatoia più breve ma ha trovato la porta chiusa ecco non credo quindi che abbia fatto una scelta del genere sapendo che non la portava alla sua meta un altro fattore che va un po' contro l'ipotesi del suicidio e secondo la psicologia è molto più probabile mettere in atto un suicidio nel tardo pomeriggio e nella sera o nella notte piuttosto che nella mattina in quanto tendenzialmente i sintomi di depressione sopravvengono sempre verso il finire della giornata aggiungo ancora un elemento personale in quei giorni andavamo spesso a mare in quel punto dove c'è lo scoglio che dista dal traliccio 450 metri e dal sentiero che porta al traliccio 200 metri e per quanto la spiaggia fosse come al solito deserta perché quello sembra veramente un posto fantasma un sub esce e tutto agitato dice mi hanno rubato di nuovo la borsa con le scarpe e forse c'erano anche dei soldi e dice non è la prima volta ma chi è praticamente questa persona cercava un colpevole anche se la spiaggia a livello di bagnanti fosse deserta come se qualcuno quindi fosse sopraggiunto dalle campagne non si sa veramente da dove e gli avesse preso praticamente gli averi lasciati in spiaggia ovviamente perché lui era intento a fare delle immersioni e poi fosse sparito ancora per le campagne non possiamo sapere se c'è un nesso ovviamente ma intanto questo è un episodio accaduto effettivamente pochissime ore prima e non bisogna dimenticare che quel bosco buca effettivamente a non più di 15 metri dal mare quindi praticamente dal bosco si accede direttamente alla spiaggia per terminare voglio proporre alcune domande che girano parecchio che ho letto qualcuna è mia qualche altra appunto l'ho trovata nei commenti allora la prima questione è a differenza di quello che dicono in tv non è vero che lei abitava così lontana dalla piramide della luce quindi la prima domanda è il giorno prima lei era patti col marito come mai essendo patti molto vicino a Sant'Agata cioè 30 minuti non decide quel giorno di farsi accompagnare alla piramide anche perché la piramide non è un posto particolare come qualcuno può credere è semplicemente una piramide sulla punta di un monte che è molto carina anche da far visitare a un bambino che resterebbe probabilmente molto attratto dalla cosa il marito non avrebbe secondo me alcun motivo per risentirsi della richiesta e potrebbe anche accontentarla quindi il primo dubbio è visto che si trova in zona come mai il giorno prima non ci va un'altra domanda è evidentemente lei era molto brava nell'uso della tecnologia perché sappiamo che usava un mac per produrre le sue basi e sequenze musicali poi era molto brava nell'uso dello smartphone perché il web è pieno delle sue dirette o su youtube ci sono moltissimi suoi video musicali è molto probabile quindi che lei abbia conosciuto la piramide tramite internet quindi tramite qualche persona della zona del luogo appunto della piramide potrebbe essere Tusa potrebbe essere forse Sant'Agata che spiegherebbe l'uscita qui quindi lei chiaramente conosce la piramide tramite internet ma poi è costretta a chiedere dove si trovi la piramide ai parenti questo veramente non si capisce il senso di un atteggiamento del genere perché come ha capito cos'è la piramide tramite internet avrebbe dovuto facilmente capire dov'è la piramide tramite internet perché allora lo chiede come arrivarci anche perché se poi è una cosa che vuole fare di nascosto che senso ha rendere la pubblica chiedendola un altro elemento che ha incuriosito molta gente è come mai la famiglia in particolare alcuni parenti del marito da subito hanno disegnato un pessimo quadro della salute mentale della donna come se volessero indirizzare le ipotesi della scomparsa sul discorso della problematica mentale diciamo tra l'altro sono stati evidenziati questi problemi quando lei era ancora in vita e quindi dispersa allora se lei fosse tornata cosa avrebbe pensato magari della cognata che ne aveva parlata in quei termini ma soprattutto molti si sono chiesti come mai quindi la famiglia è sembrata ipotizzare come primo dettaglio il suicidio quando in genere le famiglie che subiscono delle disavventure escludono il suicidio fino all'ultimo momento pretendendo che si faccia luce e che si scopra se ci sono ragioni diverse e invece loro sono sembrati rassegnarsi subito a questa ipotesi un altro momento particolare si è vissuto quando la cognata ha parlato di due cani rottweiler visti nitidamente da lei e lo ha asserito con una certa sicurezza in realtà pochi giorni dopo in televisione il capo della guardia forestale praticamente ha smentito questa ipotesi dicendo che lui aveva visto un solo cane che era sembrato anche molto buono ci sono però altre testimonianze che dicono che ci fosse un cane con un guinzaglio nuovo quindi presentemente poteva essere libero e un'altra testimonianza ancora parla di un cane che sarebbe un incrocio tra un pitbull e un rottweiler che è presente in un casolare che si trova proprio nel punto in cui lei passa la rete per scavalcare per cui anche questa polemica sui cani ha destato sospetti come se qualcuno volesse nascondere la presenza dei cani o qualcuno volesse accentuare la presenza dei cani un'altra cosa che ha destato attenzioni particolari di molta gente è stato il fatto che la famiglia del marito ha da subito puntato il dito contro i ricercatori dicendo che erano lenti nelle manovre e che ci mettevano poco impegno ecco la cosa clamorosa è che poi a un certo punto loro organizzano una battuta di ricerca e tra l'altro in zona si diceva vedrai che lo trovano proprio quel giorno oppure si diceva per esempio ce l'avranno sotto gli occhi e non lo vedono sono frasi fatte però intanto erano le voci che giravano fatto sta che guarda caso il bambino viene ritrovato esattamente in questi giorni di ricerca anche qui subentra un elemento incredibile ovvero la persona che lo trova dice di averlo fiutato quindi alla presenza di cani molecolari tra i migliori in assoluto in Italia e in Europa del migliore personale specializzato d'Italia un volontario arruolato praticamente dalla famiglia lo trova dall'odore chiaramente non può che sorgere subito il dubbio che quel corpo quei resti del povero bambino fossero stati messi magari anche dagli animali ma al giorno prima chiaramente pensare qualcosa di diverso da ciò sarebbe come supporre che veramente chi ha fatto le ricerche ha lasciato molto ma molto a desiderare un altro elemento che pone molti dubbi avviene la sera prima del ritrovamento del bambino in pratica durante la puntata di chi l'ha visto l'inviato guarda caso trova sopra una specie di pozzo posto nei pressi del pilone un pezzo di plastica che è riconducibile a un seggiolino d'auto del bambino ora non si capisce se sia uno scherzo o cosa però potrebbe anche essere un segnale che preavvisa il ritrovamento del bambino il giorno dopo una delle ipotesi fatte per spiegare i fatti scusate il gioco di parole è quella dell'aggressione da parte di animali del luogo ora è vero che la zona è piena di maiali neri di asini di cinghiali soprattutto ma in questa zona nonostante vi siano tantissime persone che vanno a funghi o che nei boschi vanno a fare dei picnic soprattutto in prossimità delle giornate festive non si è mai sentito assolutamente di aggressione o di gente che è stata ritrovata mangiata viva degli animali ogni tanto si è sentito di qualche aggressione da parte di qualche canale padrone ma di animali che abbiano mangiato le persone non se ne è sentito e a proposito di questo c'è una dimostrazione che vale più di mille parole e di cui ovviamente le televisioni non possono essere a conoscenza circa uno o due mesi fa adesso non ricordo un medico anziano di 80 anni era andato se non sbaglio proprio a funghi in quelle campagne proprio nella zona di Caronia si era perso nel sentiero ed era praticamente stato dato per disperso per circa tre giorni cercato da tutto il personale della forestale cercato con gli elicotteri con i droni cercato dai volontari della protezione civile non c'era nulla da fare dopo tre giorni è stato rinvenuto praticamente anche in buone condizioni per cui questa persona anziana ha vagato tre giorni in quei boschi tre giorni in quei boschi e non è stato assolutamente aggredito da nessuno lui è stato in quei boschi nella parte più densa notte e giorno per tre giorni mai aggredito ok in conclusione possiamo dire che l'ipotesi del suicidio è plausibile anche se il discorso che lei abbia scalato quel traliccio in quelle condizioni è veramente incredibile è plausibile in un certo senso anche l'ipotesi dell'aggressione degli animali è anche plausibile però l'ipotesi dell'incontro sfortunato con qualcuno nei luoghi ricordiamoci che uno dei detti della mafia una delle caratteristiche è quella di fare sempre credere che la sua opera sia in realtà frutto di un suicidio mettendo poi anche in atto una diffamazione nei confronti del soggetto